Nasce a Roma la scuola di formazione politica, in cattedra il giudice emelito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, il servizio di Natalia Augas. L'obiettivo, dichiarato, è rimettere al centro del dibattito pubblico e della formazione il tema della competenza, lo scopo, la preparazione di una nuova classe dirigente in grado di progettare il futuro del paese, fatta di manager, amministratori, civil servants. Ed è Sabino Cassese, costituzionalista, accademico, divulgatore nel suo ruolo di editorialista del Corriere della Sera, a spiegare il senso del progetto a partire dall'indicazione che il titolo fornisce, vivere nella comunità. La politica oggi ha dei partiti che vengono definiti liquidi, nel senso che si sono quasi dissolti in termini di iscritti e di partecipanti e quindi bisogna sopperire a questa lacuna, a questo vuoto, naturalmente per formare delle persone che poi ognuna delle quali prenderà il proprio indirizzo, insomma con le sue idee, con i suoi orientamenti partitici. Promossa da Pellegrino Capaldo, banchiere, economista, professore alla Sapienza, tra i suoi allievi Mario Draghi e Ignazio Visco, tra i docenti Bernardo Mattarella, Paolo Boccardelli, con seminari che coinvolgeranno i dirigenti di grandi aziende partecipate dello Stato, professionisti, imprenditori, docenti universitari di aree culturali e politiche diverse, con un impegno condiviso, creare una rete di formazione che guardi all'Italia di domani.